Signore e signori, ho appena sbattuto con la testa su una mensola. Che tempismo, eh? Bella! Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti in un nuovo video. Bentornati sempre qui su MV Hardware con il vostro Marco Verdoliva. Come sempre, vi saluto. Grazie di essere qui. Grazie per l'iscrizione che state appena lasciando in questo preciso istante. Grazie, ma non dovevate. Inoltre giù c'è il link per seguirci su Telegram con il nostro canale offerte, MV Hardware Offerte. E niente, si avvicina il Prime Day, quindi ragazzi è buono se voi riuscite ad entrare nel canale. È aperto a tutti quanti perché speriamo che il 21-22 giugno qualche cosa di buono ci esca per tutti quanti. Allora, sono felicissimo finalmente di portarvi una configurazione da quant'è che non vedevamo una build qui su questo canale completa. E il prezzo ovviamente è qualcosa di cui parleremo alla fine perché ci sono un po' di cose. Una configurazione in un case micro ATX bianca. E proprio dal case vorrei partire perché si tratta di un Nova Fobia L8. Un case che per il prezzo a cui viene venduto circa una cinquantina di euro in giro su Amazon e su altri store, devo dire la verità che mi ha veramente stupito perché si tratta di un case a parte carino, ma in ogni caso che ha tutte quelle futures, quelle cose minime ma indispensabili, per un case dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Abbiamo un bel copri PSU, abbiamo la possibilità di installare radiatori fino a 240 mm sul top, di inserire fino a tre ventole sul front e in ogni caso diciamo che la qualità dei materiali è fatta bene, mesciata sul davanti e soprattutto ha un vetro, che è un vetro temperato. Attenzione! E ringrazio Nova per avermi mandato questo simple in test perché sono riuscito ad assemblare veramente tutto senza problemi, senza il minimo intoppo e c'è anche un bel po' di spazio diciamo nella parte superiore tra il bordo superiore della MOBO e diciamo il top per montare delle ventole e delle cose c'è spazio, quindi un ottimo case che arriva con una ventola sola preinstallata sul posteriore, una ventola RGB, ma io ho aggiunto delle ventole, delle Deepcool in sul frontale che sono delle RGB addressable e devo dire che fa comunque un'ottima figura. Il processore invece è un Intel 11400 che abbiamo visto su questo canale, recensiti grazie agli amici di Tripodo, non ha bisogno di presentazioni, è un 6 core 12 thread con delle frequenze che arrivano in boost fino a 4,2 e che ci permette tranquillamente di spingerci diciamo in una configurazione con schede video di fasce medie, medio-alte senza grossi problemi e insieme al processore ho abbinato una B560M ovvero un ASRock Pro 4 che secondo me sulla fascia dei 100-110 euro è una delle migliori schede madri perché ha tutto l'indispensabile, ha i VRM corazzati con degli ottimi dissipatori in alluminio, poi ha 4 slot per le RAM, ha un connettore M.2 per gli SSD NVMe che è dissipato con un copri SSD in alluminio sempre e ha addirittura dei LED RGB e doppio connettore sia per l'RGB addressable 5V che per l'RGB standard 12V, il che comunque voglio dire per una fascia di B550MATX e il prezzo è un'ottima cosa. Altre schede costano diciamo abbastanza su questa fascia di prezzo ma non offrono le stesse futures. Doppio banco di RAM da 8 quindi 16GB totali di VEGENCE a 3200MHz, tra l'altro la MOBO ci permette tranquillamente di raggiungere frequenze alte e come SSD un NVMe Kingston KC2500 da 1TB che è un SSD che abbiamo visto già su questo canale, l'ho usato per vari test e ovviamente ci permette di gestire tranquillamente giochi, sistemi operativi senza aggiungere tra l'altro un hard disk magnetomeccanico perché ultimamente questi hard disk veramente non li sopporto più. Pezzo forte della build è la scheda video che in realtà voglio dire è una 3060 TAF che io ho pagato circa 621€ da Amazon France quindi un prezzo abbastanza elevato e ci sta che una TAF del genere bella così grande stoni un po' in una configurazione micro ATX comunque dalle dimensioni compatte ma come potete ben capire questa non è una build che io ho assemblato a puro scopo di farci un video ma è per una persona che me l'ha chiesta quindi sono stato anche un po' costretto a ripiegare su una delle schede che ho trovato in quel momento quindi è un po' forzata ci sta come dimensioni ma non come scheda in sé perché fondamentalmente una 3060 sappiamo essere una scheda che per il prezzo non è di fascia media ma comunque come performance siamo nell'ordine di una 2060 Super circa una 2070 quindi voglio dire non è proprio una scheda che non è azzeccata con la configurazione di per sé ma proprio dal punto di vista estetico. In ogni caso il prezzo è abbastanza elevato, 620€ però sappiamo che questi modelli attualmente sul mercato sono sovrapprezzati rispetto al sovrapprezzo perché sono considerati diciamo fra le migliori custom in giro. Il tutto dissipato lato processore da un Arctic Sport Freezer 33 One quindi il modello leggermente inferiore al famosissimo 34 Duo con un'unica ventola da 120 bianca e alimentati tramite l'LC Power il 650W il Super Silent che abbiamo visto proprio pochi giorni fa in un video dedicato un alimentatore veramente ottimo dalle ottime performance abbiamo detto full modulare quindi ci sta anche bene in una configurazione micro ATX e non ha problemi a gestire tutto diciamo scheda madre processore e scheda video. Una configurazione del genere viene a fare euro più euro meno circa 1300€ considerando che il prezzo della 3060 è di 620€. Ovviamente inutile fare sempre lo stesso discorso ragazzi se eravamo un anno fa con 1300€ magari si riusciva a fare sicuramente qualcosa di più. Ma per quelli che sono i prezzi attuali dove una TAF 3060 voi la trovate in giro su ebay a 850-900€ considerando che solo la scheda costa la metà della configurazione diciamo che ci potrebbe anche stare. È un prezzo a cui molto spesso vedo anche dei preassemblati quindi con componenti decisamente minori di qualità e con bene o male le stesse performance. È una configurazione che si comporta di tutto rispetto nei giochi tranquillamente. Cioè se giochiamo in full HD non abbiamo nessunissimo problema su tutti i titoli anche competitivi come Fortnite o Rainbow Six Age a superare tranquillamente i 200-240 fps e a sfruttare magari anche monitor ad alti flash infatti per il full HD dettaglio basso forse la 3060 è una delle schede più azzeccate ma si può giocare tranquillamente anche il 1440p laddove magari utilizzate ad esempio delle futures come il DLSS nonostante attiviate ad esempio incontro gli retrasing riuscite tranquillamente il 1440p a raggiungere i 60 fps senza grossi problemi. Ma non solo su tutta un'altra serie di giochi una build del genere nonostante voi andiate in 1440p magari non maxando i dettagli ma mantenendoli intorno ai medio medio alti riuscite a tranquillamente giocare agli 80-90-100 fps poi dipende. Quindi a me non mi resta che ringraziare ovviamente Nova per averci fornito il Fobia L8 e tutte le altre aziende LCPower, Kingstom che hanno contribuito in parte alla realizzazione di questa build ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti se è una build che comprereste se è una build che vi piace anche esteticamente. Noi ci vediamo domenica con un prossimo video come sempre mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale giù in descrizione canale Telegram delle offerte. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi!